Cos'è il Manipura Cacra? Il Cacra parola deriva da una parola sanscrita che significa ruota e nell'induismo i Cacra sono centri di energia situati in diverse parti del corpo, ciascuno rappresentato da un diverso simbolo simile a un fiore o una ruota. Si pensa che ciascun Cacra abbia proprietà e caratteristiche diverse, tra cui un mantra, un colore e una connessione a varie funzioni fisiche, emotive e spirituali. Si pensa che il Cacra Manipura si trovi vicino alla spina dorsale, in linea con il plesso solare o l'ombelico. Secondo la tradizione hindù, in Manipura Cacra è il Cacra della forza di volontà e del successo, e si pensa che governi diversi organi, tra cui il pancreas, la cistifelle e il fegato. L'idea di Cacra è una parte importante dell'induismo, dello yoga kundalini e di alcune tradizioni buddiste tibetane, ed è stata anche incorporata in diverse pratiche terapeutiche occidentali come l'aromaterapia, il reiki e la terapia del suono. Il Manipura Cacra è talvolta chiamato il terzo Cacra primario, basato sulla tradizione hindù di sette Cacra primari. Il suo simbolo è un triangolo rosso a teste in giù circondato da dieci petali di loto blu scuro. Nell'induismo, uno scopo importante del Manipura Cacra è che irradia il prana, che può essere tradotto come energia vitale o vita vitale. Si pensa che questa energia influenzi il corpo e la mente, e se questo specifico Cacra è equilibrato, significa che la sua energia scorre correttamente, ha effetti positivi come rendere una persona più sicura ed energica, e anche fisicamente più sana. Tuttavia, se il Manipura Cacra è sbilanciato, una persona può subire effetti negativi come depressione, artrite, indigestione e rabbia. Il significato del Manipura Cacra per il benessere sia mentale che fisico lo rende molto importante in varie pratiche spirituali e terapeutiche, incluso lo yoga e la meditazione. I praticanti spesso si battono per il bilanciamento dei Cacra o la guarigione dei Cacra se si ritiene che l'energia del Cacra sia sbilanciata o bloccata. Per raggiungere questo obiettivo, è possibile utilizzare vari approcci, come la meditazione, esercizi di respirazione, oli essenziali e respirazione consapevole. A volte, la terapia del Cacra include il toccare il Cacra specifico con le mani, i cristalli o le gemme. Si pensa che la cura del Manipura Cacra porti a una migliore salute fisica, ad esempio migliorando la digestione e contrastando il diabete. Si pensa anche che aiuti a rendere una persona meno egoista e più caritatevole nelle sue relazioni con le altre persone e il mondo in generale. La terapia con Cacra non è un trattamento medico scientificamente provato, ma i praticanti sostengono che un maggiore benessere fisico e mentale può essere raggiunto bilanciando l'energia dei Cacra.